Stanno chiudendo le stalle e quando chiuderanno le stalle non riapriranno più. Emergenza Materie Prima in Agricoltura, il focus della situazione in Veneto direttamente dall'assessore regionale Federico Caner, coordinatore della CPA Commissione delle Politiche Agricole della Conferenza delle Regioni. Situazione emergenziale annuncia per la quale nelle prossime ore è previsto un incontro tra la regione e il ministro Patonelli. In particolare in Veneto, in pienura padana, ma non solo, anche in altre realtà italiane sta mettendo in ginocchio la nostra agricoltura, in particolare legata all'allevamento. Con le stalle a rischio chiusura a causa della mancanza del mangime per gli animali d'allevamento così accatena il crollo delle produzioni alimentari di origine animale. E questo significa non solo perdita di prodotto, di latte, ma anche, io penso, ai nostri prodotti tipici che, guardate, sono fondamentali anche per l'aspetto turistico, perché questa regione attrae anche per ciò che dà non solo dal punto di vista culturale e naturale, ma anche inogastronomico. Il 25% dei turisti internazionali si muove con questa motivazione, perdere i nostri formaggi tipici fatte con latte Veneto, se mi manca il latte Veneto mi mancano anche i prodotti tipici. Quindi è un tema non di poco conto, se poi dobbiamo anche tenere presente che vedrete che a breve il latte tornerà a costare oltre 60 centesimi, quindi lo andremo a importare dai tedeschi pagandolo di più.